Dopo quattro vittorie consecutive la 3M Puccio Ufficio Perugia torna a riassaporare il gusto amaro della sconfitta. A San Sisto Roana Macerata ha fatto la voce grossa e conquistato l'intera posta in palio con il risultato più rotondo. Un 3-0 che tuttavia non deve trarre in inganno rispetto alla tenuta della squadra di Brighigna che per tutti i 3-7 se l'è giocata a punto su punto mostrando qualche lacuna tecnica e mentale solo nelle fasi decisive. Le avversarie marchigiane hanno dimostrato una maggiore capacità individuale e non a caso solo in lotta per un posto nei quartieri nobili della graduatoria. Per la 3M Puccio Ufficio Perugia un K.O. per certi versi indolore che non complica il cammino salvezza con la zona rossa che continua a rimanere a debita distanza. Sapevamo che sicuramente quest'avversario ci avrebbe messo di fronte delle difficoltà. Del resto la posizione che occupa in classifica è una testimonianza di questa cosa. Non siamo rimasti tanto sorpresi dal gioco che hanno espresso loro, però noi siamo andati male e dispiace il fatto che abbiamo perso praticamente tutti e tre i sette ai vantaggi giocando al 50% e quindi credo che dobbiamo in un certo senso recitare il mia culpa. Negli ultimi sei gare abbiamo fatto cinque vittorie, quindi credo che come cammino era più che buono. Se non è sufficiente questo per avere lo spirito giusto, non so cos'altro si possa chiedere. Certamente la squadra sta attraversando un periodo difficile per tanti motivi che conosciamo legati a indisponibilità, infortuni eccetera, ma questo chiaramente non vuole essere nessun tipo di alibi perché ovviamente dobbiamo essere capaci di farci carico di queste cose e questa sera onestamente non lo siamo stati. Grazie a tutti!